Sì, salve cari amici, eccoci nuovamente giunti a un ulteriore video, chi vi parla è sempre Alessio Evangelisti, mi dovreste sentire bene perché sto con l'auricolare e non ho preso Gli occhiali, eh non ho preso gli occhiali, ok, e ora prendo gli occhiali, è un po' lontana La telecamera, ma tanto a me l'immagine non è che mi interessa più di tanto, quello Che mi interessa è l'audio, allora, scusate se faccio un altro video qua, però sai che Cosa c'è? Che io arrivo la sera a casa, siamo un po' in confidenza, eh, arrivo la sera a Casa e praticamente sono molto stanco, e quando stai tutto il giorno rinchiuso dentro quattro Mura, vuoi perché stai in ufficio, al lavoro, vuoi perché stai dentro quattro Mura di un'altra struttura, quando arrivi a casa, sei, non hai molto la testa, per fare I video, e comunque il corpo umano, stiamo in insegnamento anche questo, eh, il corpo umano Per forza di cose necessita, questo per natura, per creazione divina, perché noi siamo stati Creati dal divino, no? Dal Kadosh Baruch Hu, come dicono gli ebrei Quindi per creazione l'essere umano non è stato creato per vivere dentro quattro Mura Quindi deve, per forza di cose, interagire con la natura, con il sole, con le piante, con gli alberi Questo è molto importante E quindi Quando posso mi prendo un po' di tempo per uscire fuori Camminare Correre un pochino In natura E perché altrimenti se tu non dai questo al fisico, il fisico si può ammalare e anche l'anima Ecco perché anche ho fatto il video, l'ultimo video che ho fatto sui cinghiali Parco delle Sabine Per insegnare anche ai giovani, perché ci sono dei giovani qui a Roma Che praticamente mi hanno detto che no, siccome sono giovani appunto, sono nati di nuovo Da poco pensano che il cristianesimo sia stare rinchiusi dentro una stanza a pregare e leggere la Bibbia Senza mai uscire e andare da nessuna parte Io assolutamente, nel mio insegnamento Detto assolutamente non fate questo perché vi ammalate Questo non è il cristianesimo Uscite, date in natura Date al mare Andate in montagna Al mare ci si può andare Non è peccato andare al mare E come ci si va al mare Un'altra cosa Quello che si fa Dio ha creato il mare Non per dire poi agli uomini Chi va al mare Andrà all'inferno Non date retta a queste cose Sono tutte cose che non stanno Né in cielo né in terra Poi facciamo ridere a quelli del mondo Ok? Ecco il perché Quindi arrivo a casa la sera E delle volte mi prendo un po' di tempo per fare questo Il resto del tempo prepara la cena Una cosa o un'altra Sei sfinito E quel tempo che ti rimane Lo usi per pregare E stare in comunione con Dio Chi pensa di vivere un cristianesimo senza preghiera e orazione Non farà strada in questo Non farà strada Che dice Io metto in pratica la Bibbia e non prega Uno dei principali comandamenti Che troviamo Ma dalla Genesi all'Apocalisse E la comunione col Signore e la preghiera Non mi venite a dire adesso Che c'è chi prega e non mette in pratica la parola di Dio Quello è ancora un altro fattore C'è chi prega e non mette in pratica la parola di Dio Il resto Certamente Va osservato tutto Ma uno dei principali comandamenti Soprattutto nel Nuovo Testamento Soprattutto nel Nuovo Testamento Viene enfatizzato e spiegato molto al dettaglio E la comunione Con lo Spirito Santo in preghiera Qualsiasi persona Stia servendo di Dio Siamo chiamati tutti a servire Dio Deve assolutamente avere una vita di comunione Con il Signore Questo è molto importante E Oltre a questo Poi c'è tutto il resto Bene Scusate se mi sono dilungato in questo Ma Mi sento in famiglia Mi sento in famiglia E quindi Ho detto Senti faccio Faccio un video la mattina Lo faccio Da dove lo faccio E perché poi io la sera Non so come sto messo E ho pregato Il Padre nel nome di Gesù Signore dammi una parola Ero convintissimo Che me Avevo la consapevolezza Che l'avrebbe fatto Infatti stamattina Sono andato Ad aprire la Bibbia Con estrema fiducia Sicurezza Che mi avrebbe dato Una parola E Ho sentito nel cuore Vai ai profeti minori Va all'aprire lì Come magari altre volte Sento nel cuore Aprila nei salmi E quindi Sì L'ho aperta a caso Ma nei profeti minori E sono capitato in Gioele Gioele capitolo 2 E mi sentivo nel cuore No questo no 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 Sento proprio di no Ho voltato pagina Dicendo che ci può essere In Gioele Che possa portare Invece quando sono andato In Gioele 3 Questa parola Ha colpito il mio cuore L'ho affolgorato E quindi sono qui Per parlarvi Di Gioele 3 Non lo voglio fare Tanto come insegnamento E basta Ma lo voglio un po' condire Con il sermone pastorale E quindi Tutto quello che diremo Leggeremo e faremo Lo diremo Lo leggeremo E lo faremo sempre Nel nome del Padre Nel nome del Figlio Nel nome dello Spirito Santo Che è benedetto In eterno Amore Ovviamente di preparato Non ho assolutamente Nulla a zero L'unica cosa che ho davanti È la mia Bibbia Questa è una vecchissima Bibbia Che ho da quando ero ragazzetto Vedete È una Luzzi Che consiglio Alcuni demonizzano la Luzzi Perché non capiscono niente La Luzzi è un'ottima Bibbia Ovviamente io sono Diodatino La Diodati è l'Olimpo Ma sono sempre avversivo E no Stamattina ho portato la Luzzi Perché è più piccola Allora Non so se l'ho detto Tutto quello che diremo Leggeremo e faremo Lo diremo Lo leggeremo E lo faremo sempre Nel nome del Padre Nel nome del Figlio Nel nome dello Spirito Santo Che benedetto in eterno Amen Chi ha fede Può dire Amen Quindi amati Potete andare nelle vostre Bibbie A seguire Se avete il piacere E Quindi abbiamo detto Gioele Secondo profeta Minore Osea Gioele Ok Poi c'è Amo Sabvia Gioele Michele Nauma Abba Cusofonia Geo Zaccaria Malachia Allora Daniele Gioele Capitolo 3 È molto lungo E Casomai faremo Solo una parte Allora La parola di Dio Esordisce Nel verso 1 Asserendo Quanto segue Poiché ecco In quei giorni In quel tempo Quando ricondurrò Dalla cattività Quei di Giuda E di Gerusalemme Io radunerò Tutte le nazioni E le farò scendere Nella valle di Giosafat Verrò qui In giudicio Con esse A proposito Del mio popolo E di Israele Mia eredità Che esse hanno disperso Fra le nazioni E del mio paese Che hanno Spartito Fra di loro Interessante Notare Torniamo A Enfatizzare La grande verità Che ormai Ci contraddistingue Da tantissimi anni Che qui c'è Una chiave di lettura Fra le più importanti Di tutta la Bibbia Per quanto riguarda L'escatologia Il termine In quel giorno In quei giorni In quel tempo Quando ci troviamo Davanti a questo termine Apriamo bene L'anima Lo spirito E le orecchie Perché Probabilmente Molto probabilmente Non è sempre così Ma molto spesso Si riferisce Al giorno del Signore O previo giorno del Signore E infatti qui Si riferisce proprio A quel tempo là Verso la fine Giorno del Signore Apocalisse Grande tribolazione E quindi Alla fine Dei due giorni Perché poi sono Due mila anni Questo lo dicevo Osea 6.1 1.2 E interessante notare Che alla fine Dei giorni Torniamo a enfatizzare Questa grande verità Il popolo di Israele Il Dio Lo chiama Il mio popolo Per esempio Agostino Detto Santo È lui che Ha Credo L'abbia inventata lui La dottrina Della sostituzione Che la Chiesa Avrebbe sostituito Israele Questo è falso Israele resta E quindi Qui sta parlando Di Israele Interessante notare Che nel giorno Del Signore L'enfasi Viene posto Viene posta Su Israele Quindi non compare La Chiesa Vero? Interessante Questo Quante cose Ci sono Che ci fanno capire Che la Chiesa Non c'entra niente Col giorno del Signore E quindi Qui dice Quando io Ricondurrò Della cattività Quei di Giuda E di Gerusalemme Verrò qui in giudizio Con essi a proposito Del mio proprio Israele Quindi qui vediamo Che durante Il giorno del Signore Questo è scritto Anche in Zaccaria E non solo La terra D'Israele Sarà data A prezzo E già adesso Lo si sta facendo Ecco perché E' stato creato Il popolo Palestinese E' stato creato Perché fino al 1947 Fini nel 1948 Non è mai esistito Nessun popolo Palestinese Mai Esistita Una moneta Scusate Sta venendo Qualcuno Una moneta Palestinese E hanno tirato a sorte Il mio popolo Hanno dato un fanciullo In cambio di una meretrice Hanno venduto Una fanciulla Per del vino E si sono messi A bere Poi dice Nel verso 4 Anche voi Che prendete da me Tiro e Sidone E voi tutte Le regioni Della Filistia Quindi qui vediamo Che alla fine dei tempi Ci saranno dei conflitti Fra Tiro Sidone E il resto Della Filistia Dentro La Cana Dentro Israele Infatti Proprio oggi Tiro Sidone Che sarebbe Libano E il resto Della Filistia Che sarebbe Appunto Dove stanno I palestinesi Tra un po' Entrano Per pulire E quindi Dovrò chiudere E riprendere dopo Questo passa E alla fine Dei tempi Ci sarebbero stati Questi Questi problemi Interessante Notare Che Per circa 2000 anni La terra di Israele È stata deserta Perché quando gli ebrei Poi usciranno Nel 70 dopo Cristo Al di là delle varie Scaramucce L'ultima Una delle ultime Nel 130 135 Con Parcoba Ma poi Da lì insomma La terra di Israele Sarà completamente deserta Non solo per assenza Di abitanti Ma anche proprio Desertica Infatti I primi In oassificare Il deserto Il deserto Come professionalità Ok Riprendiamo Scusate Ma purtroppo Quando non sei a casa Succede questo E quindi Cari amati Eravamo arrivati Insomma Al verso 4 No E quindi In questi 2000 anni Insomma Questa terra Di Israele È stata Addirittura Deserta Come d'altronde Tutte queste cose Sono state profetizzate Dagli Appunto Antichi profeti Di Zaire Di Eremia E Lo stesso Deuteronomio Ne parlerà molto E così via Discorrendo Poi Quando tornano Gli ebrei Nel Nel 48 Praticamente Sì Loro entrano Però viene creato Questo popolo D'Amblè Viene creato Chiamato I palestinesi Di questo Ne abbiamo Già parlato E poi dice Sempre nel verso 4 Alla metà Volete voi Darmi una retribuzione O volete far Del male Conto di me Tosto Sta parlando Di Israele Perché Chi fa del male Agli ebrei Fa del male Allo stesso Io Questo è scritto In Zaccaria Chi tocca a voi Tocca la pupilla Dell'occhio mio Davide Parlerà appunto Della pupilla Anche Davide Tosto in un attimo Io farò ricadere La vostra retribuzione Sul vostro capo Poiché Verso 5 Avete preso Il mio argento Il mio oro E avete portato Nei vostri templi Il meglio Delle mie cose preziose E avete venduto Ai figlioli Dei Giavaniti Cioè Greci Quindi A che fare Con l'Occidente I figlioli di Giuda E i figlioli Di Giacosalemme Per allontanarli Dai loro confini Interessante notare Che in questi Ultimi anni Dentro Terra di Israele Si sono scoperte Molte cose Fra cui Israele è diventato Uno Dei maggiori Possessori Di pezzamenti Di territorio Ripieni Completamente Di gas E questo Adesso Il centro Del mirino mondiale È proprio il gas Infatti Russia Che è uno Dei principali Esportatori Di gas A livello mondiale In questo momento Si sta svolgendo Questa mega guerra Soprattutto Anche per motivi Economici Entrando in gioco Anche Israele E già si sta parlando Di creare Dei gas Dotti Che appunto Possano portare gas Al resto Diciamo Delle nazioni Circonvicine Soprattutto Europa Ok Questo creerà Diciamo Degli attriti Nei confronti Dei russi E questo potrebbe Essere uno Dei momenti Quando Zaccaria Ezechiele 38 39 Quando parla Di Gog e Magog Che dice Che Gog e Magog Sarebbe stato tirato Verso Terra di Israele Appunto Con Mettendo Dei ganci Sul naso Trarlo Certamente Li ha A che fare Ha a che fare Con 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 le ricchezze Vuoi il gas Vuoi molte altre ricchezze Che sono state trovate In terra di Israele E L'oro E tante altre cose Interessante notare Cari amati Che Molti fanno Confusione Perché La parola di Dio Parla Che Nel millennio I popoli Correranno Verso Il Tempio Di Gerusalemme Per adorare Il Signore Ma Quello Succederà Nel millennio Interessante Altresì Notare Che Prima del Millennio Ci sarà Questo giorno Del Signore Che durerà Sette anni Dove Il terzo Tempio Di Gerusalemme Sarà Ricostruito E Certamente Sarà presentato Al mondo intero Dove sarà Aperta la porta Al mondo intero Perché Questo Corra A questo Tempio Però Nel giorno Del Signore Non si proporrà La parola Di Dio Pura Genuina Quindi È vero Che Le persone In quel tempo Saranno Indirizzate A correre Al tempio Ma non Per adorare Veramente Dio Per come è scritto Dalla Genesi All'Apocalisse Ma perché Poi L'Anticristo Stesso Si porrà Sedere In questo Tempio Per farsi adorare Lui Non solo Dagli ebrei In primis Ma dal mondo Intero E tutto Tutto Questo È correlato Diciamo Si concretizza Alla fine Dei tempi Quindi Prima di tutto Questo Prego il giorno Del Signore Non ci sarà Nessun risveglio Dove appunto Le persone Corrano Al tempio Del Signore E quindi Questo sarà Un grande risveglio Mondiale Perché noi Non troviamo Una ricostruzione Del terzo Tempio Prima del giorno Del Signore Non lo troviamo Perché noi Vediamo che Il terzo Tempio Biblicamente Parlando Tutto punta Apocalisse 11 Che verrà Ricostruito Dentro il giorno Del Signore E poi Questo Sicuramente Sarà distrutto Per questioni Ovvie Poi Ne abbiamo Già parlato Quindi Alla fine Nel millennio Ci sarà Un quarto Tempio E quindi Tutto questo È sulla Da prima Del rapimento Della Chiesa E quindi Dove sta Il risveglio Mondiale E poi Il mondo Non sta Aspettando Il risveglio Risvegliare Vuol dire Uno che Stava Dormendo E il mondo Deve nascere Di nuovo Cosa che Non avrà Mondialmente Parlando Ma individualmente Parlando Ognuno di noi Deve nascere Di nuovo E accettare Cristo Quindi c'è Molta confusione In questo Anche da persone Veterane Mega Ministri Che ne sanno Più di me Però Delle volte Ci si perde In un bicchiere d'acqua E come già detto L'escatologia È una materia Unica a se stessa Tu puoi essere Bravo in mille materie Ed essere Un incompetente In escatologia E così via Discorrendo Ovvero Essere molto bravo In escatologia Ma nessuno è bravo Cominciando da me Ed essere Un mega incompetente In altre materie Insomma La Bibbia È fatta Di mille materie E nessuno ha tutto E io sono l'ultimo Io non sono neanche Un escatologo Semplicemente Lavoro con l'escatologia Tantissimi anni Perché ho questa passione Da bambino Io a 15 anni Stavo in Amazzonia A mezzo ai missionari Sette mesi E il primo libro Che lessi Fu appunto L'Apocalisse Perché prima Andavo in chiesa Con la Bibbia E tutto quanto Ma chi la leggeva E invece Insomma Piano piano Poi ho fatto Il mio percorso Come tutti quanti I bambini Eccetera 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 E quindi Cari amati Stiamo Non è uno studio profondo E quant'altro Però vi do Molti punti Che voi Potete cogliere No? E avere Poter porre Delle riflessioni No? Ricordate Giavaniti Giavan Già l'ho spiegato In arte video In escatologia Giavan significa Grecia Certamente Ma in escatologia Giavan Indica L'occidente Quindi Giavan Greco-romano Roma Occidente Ecco Io farò muovere Verso 7 Dal luogo Ove voi Li avete venduti Ok Sì Farò ricadere La vostra retribuzione Sul vostro capo Venderò i vostri figlioli Le vostre figliole Ai figlioli di Giuda Che li venderanno Ai sabbei Nazione lontana Poiché l'Eterno Ha parlato Infatti poi si dice Che quando il Signore Tornerà per la seconda volta In Matteo 24 Verso 29 30 31 Che raccoglierà I suoi eletti Dai 4 venti Lì Tutto punta Che sta parlando Degli ebrei dispersi Verso 9 Proclamate questo fra le nazioni Preparate la guerra Fate sorgere i prodi S'accostino Salgano tutti gli uomini di guerra Fabbricate spade Coi vostri meri E lance Con le vostre roncole Dica il debole Sono forti Interessante Notare Che qui ti dà Una chicca Fabbricate Coi vostri meri E lance Con le vostre roncole Cioè Zappe Quindi qui ci sta facendo comprendere Che arriverà un momento Che Israele E le nazioni Saranno disarmate Infatti Apocalisse 6 Parla Tutta l'Ude È un disarmo Perché Il cavallo Bianco È Una Contrapotizione Perché il cavallo Nella Bibbia Implica guerra Sempre Mentre invece L'asino Già Abbiamo fatto il video Dedicato Implica pace Ecco perché Gesù è entrato In un asino Non tanto per umiltà Oltre che È umile Perché i re Andavano sull'asino Quando venivano in pace I re Mentre invece Quando venivano in guerra Andavano sul cavallo Quindi il cavallo Ci parla di guerra Ma Il bianco Ci parla di pace E quindi Finta pace Infatti C'era l'arco Che porta guerra Ma non c'era la freccia Disarmo Oggi si parla di disarmo Ovviamente parliamo Di disarmo nucleare E Israele Si sa che ha Almeno 200 testate nucleari Verso 11 Affrettatevi Venite a nazioni D'ogni intorno E radunatevi Là Come dire Tu sai dove O Eterno Fa scendere i tuoi prodi Si muovono E salgono le nazioni Alla valle di Giosafat Cos'è la valle di Giosafat? Armageddon Armageddon Apocalisse Ne parla Vedete come La parola di Dio È tutt'una Bisogna fare Gli allacci Il fondamento È molto importante E tagliarla bene Amati Poiché io Mi Assiderò A giudicare Le nazioni Di ogni intorno A un certo punto Perché qui si Confondono In tremila Noi sappiamo Che il giudicio Di Dio È solo uno È il grande drono bianco Prima non ci sarà Nessun giudicio Però Dio parla Di giudicio Costantemente Perché Intanto Egli ci giudica Tutti i giorni Della nostra vita Egli giudica Il mondo Costantemente E continuerà a farlo Anche quando Lui tornerà Per la seconda volta Come scritto In seconda Tessalonicesi Capitolo 2 Che lui giudicherà In quel giorno Nel giorno del Signore Le nazioni Le giudicherà In virtù Delle loro opere Lui giudicherà Le loro opere E quindi Manderà Le 21 piaghe Della grande tribolazione E questo fa parte Del giudicio Di Dio Ma non è un giudicio Inteso come Quello del grande Trono bianco È il giudicio Che Dio fa Appunto ancora oggi Dio giudica La sua chiesa E quelli Che fanno Determinate cose Tipo Mangiare Della cena Del Signore Indegnamente Addirittura Li fa morire Ancora oggi Perché Gli giudica Io mi fermo Qua Amati Il tempo Poco Sto lavorando Male Materialmente Parlando Vedete Non è che sto Lavorando bene Sto sempre Su chi va La Mi può Squilare Il cellulare Insomma Sto lavorando Malissimo Materialmente Parlando Ma pur Pur sto Lavorando Noi siamo Chiamati a Lavorare Sempre Nel bene E nel male Naturalmente Parlando Perché il male Purtroppo Sta Comunque Ma noi dobbiamo Vivere il bene Però E quindi Sto lavorando Un po' Male Però Magari Poco Vi ho voluto Portare Magari Questo video Può essere Di aiuto A qualcuno Spero Di sì L'intento È questo Vi ho voluto Portare Una piccola Parte Della parola Di Dio Un po' Di contesto Una piccola Riflessione Gli occhi di Dio Sono puntati Sul Suo popolo La chiesa Di Gesù Cristo Amati E sono puntati Su di noi E quindi Vegliamo Siamo vigili Siamo vigili E continuiamo A portare avanti L'opera Che ciascuno di noi È stato chiamato A portare avanti Non facciamo Tutti le stesse cose Ciascuno Fa quello che deve fare Davanti a Dio Secondo le opere Che Dio Gli ha preparato Come scritto In Efesi 2 Dall'otto in poi Noi siamo salvati Per grazia Non per opere Mediante la fede Eccetera Eccetera Però poi dopo Questo Vengono nominate Le opere Che Dio Ha preparate Ecco Cerchiamo di capire Qual è la volontà Di Dio Nella nostra vita E udire La voce di Dio Importante Dio vi benedica Cari amati Con voi Come sempre È stato Alessio Evangelisti Se il Signore vorrà Ci si vedrà Al prossimo Videoprogramma Shalom Maranata Grazie a tutti